Sono sette le associazioni di categoria, case artigiani, clai, cna, confapi, confartigianato, confcommercio e confesercenti che lanciano l'allarme per il taglio al microcredito operato dalla regione Abruzzo. Per i rappresentanti di categoria il ridimensionamento equivale quasi alla cancellazione della misura invocata e sostenuta da tutto il mondo delle piccole imprese. La giunta regionale, dicono le associazioni, con la delibera numero 583 del 28 settembre, ha stornato dal fondo di dotazione del microcredito ben 7.670.000 euro per destinarli ad altre attività. Una somma che va ad aggiungersi al primo taglio operato in estate, con il 1.200.000 euro destinato al raduno del Napoli a Castellisangro e attinto sempre dallo stesso plafond. In questo modo, osservano i firmatari della nota, la disponibilità del fondo è stata di fatto ridotta all'osso e sfugge la spiegazione di tutto ciò, soprattutto, dicono, alla luce delle tante dichiarazioni pubbliche che annunciano misure a sostegno del mondo dell'impresa. Eppure, dalle stesse forze imprenditoriali, era arrivata nei giorni scorsi la richiesta diretta al Presidente della Regione Marsilio, all'Assessore Fioretti e al Presidente di Abruzzo Sviluppo Stefano Cianciotta, di arricchire e potenziare la misura a beneficio di una platea maggiore di imprese, utilizzando le risorse dei vecchi bandi sul microcredito e aumentando la dotazione a 13 milioni di euro, in modo da generarne 30 di finanziamenti erogati a tasso zero a più di 1.200 imprese. Di qui la richiesta alla Regione di rivedere la scelta, tornando ad investire sulle misure di sostegno alla piccola impresa, fortemente provata da anni di crisi ed ora anche dall'emergenza Covid.